E' stato firmato il 6 aprile scorso il protocollo nazionale per i piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro e in questo ambito Seagruppo, azienda di Fanno, leader dei settori della sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro e formazione, organizza un evento formativo di approfondimento dal titolo Vaccinazione in azienda, cosa c'è da sapere? L'iniziativa si svolgerà mercoledì 5 maggio alle ore 11 in modalità online e vedrà la partecipazione come relatore di Roberto Burioni, professore di microbiologia e virologia dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Abbiamo ricevuto da molti dei nostri clienti pubblici e privati, che sono più di 3.500, molte richieste in questo senso, per cui ci siamo resi disponibili ad effettuarle, così ad, come dire, completamente integrazione a tutti i servizi che già facciamo a queste aziende da 32 anni, perché è un aspetto che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, per cui soprattutto l'evento sarà finalizzato a questo aspetto nuovo delle possibili vaccinazioni in azienda. Sarà quindi l'occasione per chiarire ai datori di lavoro con quali modalità le aziende potranno predisporre piani di vaccinazione aziendale e organizzare le inoculazioni nel pieno rispetto del protocollo. Da questo incontro emergeranno due grandi temi. Il primo, quello che discuteremo col professor Burioni, sarà proprio lo stato attuale della campagna vaccinale, il rapporto rischio-benefici dei vaccini e anche gli chiederemo, ragionando a lungo termine, cosa dovremo fare poi nei mesi di cui avvenire, perché è vero che le aziende e le persone vogliono vaccinarsi adesso, però dovremo anche ragionare sul futuro prossimo, cioè questo vaccino diventerà una routine tipo quello dell'influenza oppure ci saranno degli sviluppi nuovi. Gli chiederemo di ragionare più a lungo termine. Dopo il professor Burioni invece ci sarà l'intervento del dottor Flavio Jecker, che è uno dei nostri medici del lavoro, che parlerà proprio praticamente alle aziende, ai datori di lavoro, per spiegargli come nella pratica si dovranno organizzare nel momento in cui decideranno di aderire alla campagna volontaria di vaccinazione in azienda, quindi quali addempimenti dovranno mettere in atto dal punto di vista igienico-sanitario e come attuare il protocollo che è stato siglato a livello nazionale pochi giorni fa. Il seminario si svolgerà sulla piattaforma Zoom. Per partecipare è necessario contattare se a gruppo scrivendo una mail o chiamando al numero di telefono di riferimento entro le ore 12 di domani, martedì 4 maggio.